Ho proprio voglia di mangiarmi in questo balsiasmo Ciao a tutti! Oggi abbiamo deciso di imitare come mangiano gli animali Cominciamo con Hai fermo Con Un animale che non ho mai visto in vita Mi prendi po' Un animale che non mi prendi 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 Ok Ecco come mangiano gli animali L'ultimo animale Non si sapeva cos'era Comunque Un oceano che picchia gli alberi Il picchio è Picchio 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 è qui Che cazzo è No Oh Vicky se lo stava perché è la smerda Arrivederci ok arrivederci mettete like